La provincia di Teramo in poco più di 15 giorni ha perso due lavoratori per altrettanti incidenti in azienda. Ieri a Pianura Vomano, frazione di Notaresco, si è registrata l'ennesima tragedia. Un uomo di 52 anni, Roberto Scipione di Bisenti, è morto precipitando da quasi 10 metri, mentre stava lavorando per la sua azienda specializzata nella rimozione dell'amianto. Questo perché, secondo una prima ricostruzione, un lucernario che stava attraversando si sarebbe sfondato sotto il suo peso. A fare chiarezza saranno i rilievi avviati dai carabinieri e gli accertamenti da parte degli ispettori dell'azienda sanitaria, che riferiranno al magistrato titolare dell'inchiesta. Va ricordato che solo pochi giorni fa i sindacati sono scesi in piazza a Martiri e a Teramo per dire basta alle morti bianche e per chiedere prevenzione e sicurezza. Sì, il 16 settembre abbiamo proclamato 8 ore di sciopero a seguito della morte di Tonino Fanesi, che era avvenuta il 13 settembre, e ieri la notizia incredibile, intollerabile e inaccettabile di un'altra morte sul lavoro. Continuiamo purtroppo a contare ad aumentare quell'elenco terribile di una strage quotidiana, che purtroppo non facendo ad arrestarsi le confederazioni CGL Cisleville, che in questo caso ovviamente hanno unitariamente avviato delle azioni, hanno richiesto un incontro al prefetto e hanno richiesto che la piattaforma presentata l'anno scorso, nel 2021, direttamente a quell'istituzione, venga presa in considerazione. Tuttavia c'è un problema culturale. Il problema della salute, l'argomento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere un argomento che interessa tutti. Bisogna avviare e partire dalle scuole e avviare un monitoraggio costante nei luoghi di lavoro. A preoccupare i sindacati è anche la difficile situazione economica che le aziende stanno affrontando a causa dei rincari che potrebbe andare a discapito della sicurezza. C'è una corsa innanzitutto all'occupazione, il lavoro precario ha comportato anche questo, c'è una corsa alla produzione che mette poi in secondo piano uno degli argomenti più importanti che è quello della vita delle persone. Oggi è questo quello che ha comportato questa società. E anche un lavoratore precario, in un luogo di lavoro, che sa di non essere nelle condizioni di lavorare in sicurezza, probabilmente ha paura di esigere il diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.